Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. La Digos di Napoli ha proceduto all'arresto in fragranza di ferita di un tifoso partenopeo con precedenti di polizia aderente al gruppo Brigata Carolina dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il tifoso Antonio Marigliano di 35 anni è il primo ultra partenopeo arrestato dalla Digos per gli scontri avvenuti domenica sulla 1 tra tifosi romanisti e partenopei. L'uomo è stato tratto in arresto per possesso di oggetti atti ad offendere e denunciato per rissa aggravata. Marigliano è stato riconosciuto attraverso la visione e l'analisi delle immagini contenute nel video relativo agli scontri tra i tifosi di Napoli e della Roma avvenuti all'autogrill di Badia Alpino a Diarezzo. In queste ore la Polizia di Stato sta operando altre perquisizioni che potrebbero portare a nuovi arresti di ultra del Napoli e della Roma. Domani alle 12 il presidente della FIGC Gabriele Gravina e l'omologo della Lega di A Lorenzo Casini incontreranno il ministro dell'interno Matteo Piantedosi Albiminali. L'incontro è stato richiesto dai vertici del calcio per fare il punto sulla questione sicurezza. Matteo Piantedosi preannuncia direttive di particolare il rigore. Finora ci sono stati quattro arresti, ha detto il ministro, ma ci saranno altri provvedimenti. Sul tavolo la possibilità di chiudere le curve per le prossime partite di Roma e Napoli, domenica contro la Fiorentina per i giallorossi e venerdì il big match Napoli-Juventus o addirittura giocare entrambe le partite a porte chiuse. I tifosi sono preoccupati. Tutto ciò è assurdo, sono una banda di teppisti e è finita là, non c'entra nulla la società calcio Napoli. Se dovessero chiudere lo stadio? Sarebbe inopportuno, è un'angeolazione per la Juve. Non ci credo proprio, non è possibile, sarebbe la rivoluzione, proprio con la Juve poi. Allora il solito imbroglio? Ma quello che è successo in autostrada ovviamente è deprecabile. Molto deprecabile, però quello che voglio dire io, la colpa è anche un po' delle nostre istituzioni, perché chi sappia io almeno dai giornali ho letto che già sapevano qualche cosa, quindi hanno controllato male. Comunque non sono tifosi, sono gruppi organizzati, hanno un grado di cultura evidentemente che non cambierà, difficilmente cambierà con la nuova generazione. Secondo me non ci sta, il Napoli-Juventus è una cosa e quello che succede è cronaca. Non credo che si giocherà Napoli-Juventus a porte chiuse, ma non credo neanche che si risolverà questo problema. Ci sono troppi interessi economici, purtroppo il calcio è la seconda industria italiana dopo lo Stato, quindi se non faranno qualcosa come l'Inghilterra questa soluzione non la risolveranno mai. Ogni volta che succede questo, i solidi proclami, le solite trasmissioni che durano per qualche giorno, alla fine non si risolve mai niente. Sono sul piede di guerra i comitati studenteschi dopo la circolare emanata dal Ministero dell'Istruzione che impedisce l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione. Le nuove disposizioni entrate in vigore ieri 9 gennaio con la riapertura delle lezioni dopo la sosta natalizia prevedono che durante le ore dedicate all'apprendimento non potranno essere utilizzati smartphone e tutti i dispositivi elettronici, i quali dovranno risultare spenti o raccolti in una scatola e conservati dal professore fino alla fine delle lezioni. L'uso è permesso esclusivamente nei momenti di pausa o ricreazione o per finalità didattiche. All'interno della circolare non si parla però di sanzioni disciplinari che spettano eventualmente agli istituti. Il Ministero ha il compito di garantire l'apprendimento degli alunni, spiega il titolare del di Castero Giuseppe Valditara e ricostituire l'autorevolezza della scuola. Sulla stessa linea del Ministro i genitori che sono d'accordo sul non utilizzo dei cellulari in classe. In tanti spiegano che distrarsi può essere dell'etereo. D'accordissimo con questo provvedimento perché credo che i cellulari debbano essere utilizzati nel momento in cui il docente chiede l'utilizzo. Nel senso che sono dei dispositivi che possono essere utili nella fase didattica, però solo in quel momento e poi la restante parte della giornata possono essere tranquillamente chiusi. Mi metto da parte anche dell'insegnante e penso che sia non una cosa educata avere dei ragazzi che ogni tanto si distraggono dalla lezione e guardano il telefonino, però di contro mi metto anche da parte dei genitori che magari sapendo che il figlio ha il cellulare per qualsiasi cosa sono tranquilli. Quindi mi sembra una cosa giusta portare il cellulare a scuola, dopodiché darlo all'insegnante sulla cattedra, alla fine della lezione restituire il cellulare così i genitori sono tranquilli e l'insegnante può svolgere benissimo la sua ora di lezione. Io ho un figlio e da genitrice vorrei che il mio figlio fosse sempre raggiungibile, però a scuola si devono concentrare, quindi una giusta misura sarebbe che loro o spegnessero il cellulare, però lì bisognerebbe fidarsi dei ragazzi, oppure consegnarlo e a fine lezione riceverlo di nuovo. Ho fatto anche un intervento sulla scialti classe qualche mese fa proprio per richiedere questo, perché i cellulari sono deleteri, vengono utilizzati sia in classe durante le ore di lezione e anche su argomenti che non sono pertinenti in quell'ora. La perturbazione nordatlantica è scivolata ieri verso il sud Italia, portando piogge abbondanti soprattutto sul versante tirrenico. È della Campania la regione a dover fare i conti con i maggiori disagi. A Nocere Inferiore, in provincia di Salerno, infatti il torrente solo Frana ha rotto gli argini e ha provocato l'allagamento dello stadio San Francesco. L'acqua ha completamente coperto il terreno di gioco e la pista di atletica, danni anche alla zona degli spogliatoi. Sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il sindaco Paolo De Maio ha invitato i cittadini alla massima prudenza per il cedimento dell'alveo nella zona diacente allo stadio. Ieri poi a Napoli segnalazioni di lievi difficoltà nel transito delle auto a causa dell'acqua che sono arrivate da ogni parte della città, da Scampiacchiaia. Difficoltà sul raccordo pianura Soccavo che si è allagato a causa della scarsa capacità di smaltimento delle acque. Al Vomero la mancata pulizia delle caditoie nel quartiere collinare ha prodotto importanti pozze d'acqua, molte le chiamate vigili del fuoco. A Ischia invece la proroga di un giorno dell'allerta meteo in Campania ha spinto le autorità commissariali cittadini alla prudenza. 400 famiglie hanno abbandonato le loro abitazioni per recarsi nelle strutture alberghiere individuate dal comune per ciascun nucleo familiare oppure hanno trovato una sistemazione in via autonoma. Festiggia 150 anni il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli, cerimonia nel galopatoio reale di Palazzo Mascabruno a Portici con il Rettore Matteo Lorito. Ascoltiamo il Direttore del Dipartimento Danilo Ercolini. Un posto nato per la formazione di tecnici specializzati nell'agricoltura che oggi si è trasformato in un posto che eroga 10 corsi di laurea, quindi 4 triennali, 5 magistrali e dall'anno prossimo anche una nuova magistrale tutta incentrata sulla sostenibilità. Dalla ricerca e la sperimentazione nel settore di campo a ricerca di profilo scientifico altissimo che ci ha fatto guadagnare quest'anno l'appellativo di Dipartimento d'Eccellenza e quindi un finanziamento straordinario da parte del Ministero dell'Università dell'Università della Ricerca di circa 9 milioni nei prossimi 5 anni. Tante soddisfazioni, tanto lavoro da fare e tanto entusiasmo. La fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania si è esibita nella Sala Cinese della Reggia applaudita da Marta Schifone, esponente del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste, da Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana, Vincenzo Cuomo, Sindaco della Città di Portici. Nell'occasione, presentazione del restauro dei saluni della Reggia riaperti al pubblico, dal direttore generale Luigi Larocca, dal segretario regionale Teresa Elena 54 e dalle referenti della direzione dei lavori Brunella Como e Palma Maria Recchia. Ascoltiamo il rettore Matteo Lorito. Sono 150 anni importanti di una scuola che è un orgoglio italiano, è un unicum assoluto, non esiste un dipartimento di carriera come questo al mondo, considerando anche dove si trova la valenza paesaggistica, la valenza scientifica, la valenza formativa. Qui abbiamo percorsi formativi tra i più ricchi d'Europa, quindi un momento importante per la Federico II perché questo è uno dei più grandi dipartimenti, una delle più grandi diversità del paese, una delle più grandi diversità d'Europa. Una lettera appello al Ministro della Cultura per rimuovere l'intitolazione della Biblioteca Nazionale a Vittore Emanuele III che promulgò le leggi razziali e intitolarla a Benedetto Croce. È l'iniziativa lanciata dalla sede del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania. L'appello è siglato finora da Memorie, Museo della Shoah di Napoli, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, l'Associazione Progetto Memoria, la Comunità Ebraica di Napoli, la Federazione dell'Associazione Italia Israele, la Fondazione Valenzi, il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, tutti riuniti, nel nuovo comitato 9 gennaio che fa appello alla sensibilità del Ministro affinché si adoperi a porre fine a uno scempio della memoria. Nico Pirozzi, giornalista e coordinatore dell'Associazione Memorie. Riteniamo che la figura più rappresentativa per questa città è per un'istituzione come la Biblioteca Nazionale sia quella di Benedetto Croce. Benedetto Croce non solo per quello che ha rappresentato per Napoli ma quello che ha rappresentato per la stessa biblioteca perché negli anni venti fu lui che volle quella biblioteca nel luogo dove sorge oggi. Prima sorgeva nel Museo Archeologico di Napoli quindi lo spostamento e subito dopo la guerra sempre a Benedetto Croce ne dobbiamo fondamentalmente il recupero. Ascoltiamo Claudio Silvestri, segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania. Il Sindacato dei Giornalisti aderisce all'iniziativa perché ritiene una vergogna il fatto che una delle più importanti istituzioni culturali della città sia intitolata a chi ha promulgato le leggi razziali. Per questo ci aspettiamo che questa battaglia di civiltà si allarghi alla comunità, ai cittadini e a tante altre associazioni. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.